Salve compagni, la piattaforma francese Notre Sainte d'Angers, membro della rete europea contro la privatizzazione e la commercializzazione della salute e della protezione sociale, sostiene i nostri compagni italiani nella loro lotta per la tutela del servizio sanitario pubblico nazionale. In Francia la lotta contro la riforma delle pensioni rimane il nostro tema attuale più visibile ed essenziale. Andremo avanti fino alla vittoria, fino al ritiro di questa legge, che colpisce in primo luogo le donne e i più vulnerabili della nostra società. Questo attacco si aggiunge ad anni di attacchi ai nostri sistemi sanitari e di protezione sociale. Come in Italia e in tutta Europa, le politiche liberali al servizio dei grandi gruppi finanziari mirano a distruggere i nostri sistemi di solidarietà e ad imporre una mercificazione mortale. La solidarietà, al di là delle frontiere, è più che mai essenziale. Questa è settimana di mobilizzazioni in diversi paesi europei intorno alla giornata mondiale della salute del 7 aprile, fa parte di un progetto di convergenza delle lotte. Al di là delle particolarità di ciascun paese, la questione della difesa dei nostri sistemi sanitari deve essere al centro delle prossime elezioni europee del 2024. Ancora una volta vogliamo mostrarvi il nostro sostegno e speriamo di incontrarci di nuovo, molto presto, per costruire insieme resistenza e solidarietà fino alla vittoria.